bella a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale di un nostro nuovo video salutiamo il nostro amico il trispondo venuto da gallarate e come al solito io sono gabri io come chiamo birillo oggi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esponiselo allora un liquido si chiama poppy corn al cioccolato ricordo un po' poppy il nome della mia amica che la saluto andiamo a fare la prova di questo liquido al 70 anni c'è la nicotina e tutti questo liquido è una bomba andiamo a fare questa prova che l'abbiamo preso dal nostro negozio di fiducia da svapo caffè ricordiamo la marina di carara la spezia e moliciara io la vado a provare con la hamer elgun 24 io con la rabbit e l'apocalips resistenza a 010 da pazzi buono 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 più cioccolato subito cioccolato a nastro a nastro come se piovesse poi dopo si è un leggero suffio ricordiamo che la 0 nicotina buono 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 dove lo fanno questo liquido regalare ha portato e distribuito da prodotto italiano americano però distribuito italiano quanti ml 50 60 60 50 ml basita neutra che volta gli dai questo liquido e non di lo puoi fumare tutto il giorno questo è lo smile perchè è leggero però è bello cioccolato bello cioccolato ti lascia un bel sapore in bocca come un po' si è costruito no buono 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 ci do un 7 e mezzo 8 7 e mezzo 8 sono quei liquidi che ci piacciono a noi che ci sono un po' le imprinting si un ricordo un ricordo di quel liquido pop corn e quello allora ricordate che abbiamo il canale su instagram su facebook iscrivetevi siamo lieti di accogliervi poi vedete ancora dei nostri video un po' strani datemela dello smartphone se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale un bacio ciao 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 ciao